Certamente di un congresso abbiamo bisogno, i tempi saranno quelli che dovranno essere per una discussione democratica, partecipata, è quello di cui ha bisogno certamente il Partito Democratico, l'unica cosa che dico è non lo scioglimento di un partito che comunque con tutti i difetti e gli errori che può aver commesso raccoglie quasi il 20% dei voti, è il secondo partito a livello nazionale del profetale d'Italia, è di gran lunga il primo partito di opposizione nel campo del centrosinistra e soprattutto credo sarebbe un regalo alla destra andare a scioglierlo, quindi io credo che il PD se saprà rigenerarsi sarà ancora una forza che potrà dare tanto a questo Paese dal punto di vista di chi crede nel bisogno di un centrosinistra plurale, più largo, competitivo, è evidente che senza il Partito Democratico anche per la forza e le dimensioni che ha, ripeto, pur in un momento così difficile sia impossibile immaginare in futuro una vittoria contro le destre in questo Paese e d'altra parte governando la maggioranza dei comuni in questa regione, la gran parte, la stragrande maggioranza delle città e dei comuni, figuratevi se possiamo fare a meno dal mio punto di vista del Partito Democratico. Grazie. Grazie.